Questo è un tema che noi affrontiamo spesso, da parecchio tempo, da parecchi anni devo dire. Ci vede coinvolti perché le nostre attività hanno un pubblico molto frequente, soprattutto nel fine settimana. Dopo aver passato una serata può capitare che ci sia il momento di euforia e qualche volta è capitato che ci siano degli incidenti a causa di questo momento. Delle volte è per euforia data da un eccesso di alcol, può essere un eccesso di distrazione, può essere una manifestazione anche di mettersi in mostra, soprattutto per i giovani che vogliono essere un po' protagonisti del momento di partenza delle volte. Si vede un po' questo atteggiamento non educato per quanto riguarda la guida. Però devo anche dire che non è un problema che riguarda solo i giovani, è un problema che riguarda tutte le persone di qualsiasi età. Quindi io sono favorevole a tutte le iniziative di sensibilizzazione per far sì che le persone capiscano che devono essere molto attenti e responsabili perché quello che fanno può essere anche pericoloso a qualsiasi età, come ho detto. Quindi noi siamo interessati al massimo perché le persone siano attente perché se capita un incidente fa male a loro ma fa male anche a noi perché sentire usciva dalla discoteca, che qualche volta anche non è vero perché magari viene associato per comodità, usciva dalla discoteca, magari non è proprio così. Però può capitare che l'incidente abbracci una fascia di pubblico che magari frequentava effettivamente qualche locale e questo non fa bene a noi, non fa bene a nessuno. Quindi facciamo di tutto per prevenire perché le persone vogliamo vederle tornare a ballare e soprattutto tornare a casa. E soprattutto tornare a casa che è la cosa più importante.